L'embasso è stato progettato per coloro che da un lato hanno l'ambizione di acquisire competenze manageriali e vogliono investire sulla loro formazione senza abbandonare la attività professionale e con un elevato livello di intensità dell'esperienza formativa. Riprogettando la sequenza dei contenuti e il formato degli orari e con l'introduzione anche di alcuni moduli di cosiddette concentration full time, siamo riusciti a compattare in 16 mesi un programma che in origine, fino a tre anni fa, aveva una durata di quasi 27 mesi. È bello vedere con quale partecipazione e quale coinvolgimento tutte le sere questi ragazzi, queste ragazze vengono in aula, dopo una giornata di lavoro sono comunque disposti a rimettersi in gioco. Ho scelto Sdabocconi tra le altre business school perché rappresenta in Italia sicuramente un centro di eccellenza nella formazione del management perché è un ambiente globale, stimolante, competitivo. Un Executive MBA di Sdabocconi è rivolto a quei professionisti che vogliono ampliare a 360 gradi le loro competenze sul business di modo da avere un vero impatto sulle dinamiche aziendali. Lo slogan dell'Embas è moltiplicare il valore del proprio tempo. Chi frequenta l'Embas cerca di raggiungere una quadratura del cerchio tra preservare l'attività professionale e anzi in molti casi dimostrare sul campo che la propria produttività è aumentata e dall'altro studiare, studiare con profitto e acquisire appunto delle competenze differenziali ed innovative. A livello personale l'Executive MBA mi è servito per comprendere i miei limiti e per imparare a superarli. A livello professionale è stato molto utile per capire come le differenze tra le varie persone sono importanti per la realizzazione del successo dell'impresa. Il valore aggiunto di un Executive MBA sta nel ribaltamento della prospettiva. Ho scelto un Executive MBA per uscire fuori dalle logiche di business, delle logiche professionali, logiche di network. Una grande novità del programma Embas nei prossimi anni è l'enfasi crescente sul cosiddetto Executive Career Curriculum, cioè su una serie di attività il cui obiettivo è aiutare i nostri partecipanti a costruire un profilo di competenze e di attitudini alla gestione che sia completo, non solo dal punto di vista disciplinare, ma anche in termini di capacità di presentazione di se stessi sul mercato del lavoro. Ho scelto di frequentare l'Executive MBA esterale della SDA Bocconi per completare la mia formazione, le mie competenze e perché volevo qualcosa che fosse molto vicino al business e al mondo dell'economia come SDA Bocconi è riconosciuta esterale. L'Executive MBA per me in tre parole è scoperta, competenze e soddisfazione. Relazioni, competenze e futuro. Spidante, motivante, gratificante.